Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, vi dirò solo che in questo game, che non abbiamo vinto, non abbiamo fatto niente, però fa ridere, godetevelo e soprattutto con le cuffie No, 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 dai l'ultima volta, l'ultimo 5 secondi, Adrian, vai, no, cattiva, bambina, tieni Adrian, tieni, e fai una pompa, che ti devo dire, Adrian, se lo vuoi, se mi fai ancora fare quella cosa, ti lo do, tieni, lo vuoi il pompa, guarda, lo vuoi Adrian, questo Prima fammi fare cosa Da davanti ora Adesso, un pulato Tieni Sei contenta che ti ho fatto il città Porco, porco topogigio Veramente, veramente il porco qua è Adrian, che si fa fare le pizzette per avere un pompa E lui fa Sono stronzo, lo so Ciao, vede che c'è di YouTube Hello YouTube Saluta mamma Tappo, 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 vieni Sì, ha detto Chi? No, no, raga Raga, chiamiamo epico così bannadri, andai Ah, putt, bannadri, non ammano in camo l'estate Avete i cildini? No Dopo, gigio, dammeli Chi è che è la cildini? Che buco Sono un cagnonino da spasso Cioè, ma veramente, devo evitare i cildini? Fai vedere Cioè, questo c'aveva gli cildini e non me li ha dati, ma rimorso a C2 Meglio che ti stai zitta Guarda, quella che si è fatto fare le cose per avere un pompa sei tu, eh Quella che ha fatto la putzionella per avere un pompa sei tu, Adrian Vai, Adrian, ti insegno a addossare, va bene Miki, Miki, stai fermo, Miki, stai fermo, pure tu mi servi Vai Attaccati al cazzo, va, attaccati, attaccati Devo, dovevo controllare se non c'avevo il culetto sporco Ah? What the fuck? Oh, ma come ti permetti? Oh, oh Grazie Cane, mo' come esco Eh, lol Chi spara, raga, sparano Ma valla, valla, valla Raga, a est, raga Sopra la montagna, raga Sì, yes, sud ovest, verso 193 Sì, raga, 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 mi ha sparato l'albero Raga, mi ha sparato l'albero, aiuto, raga Ok, l'abbiamo ucciso io, Michele Ok Michael Cioè, mi chiamo Michael, però qua c'è scritto Michele perché ho messo le mail di mio padre Perché mi fa il schermo, Michele, quindi c'è scritto Michele Quindi, valla Spara, radia Spara, radia No, valla, valla, valla Shulala La base partita, la rima di Puta, banana, cicchita, gerita Buora, una cicchita, ribota, banana, tabacchi, possè No Ok Ma la vinceremo questa partita, la vinceremo questa partita A me ne serve uno per arrivare a 50 vittorie Ah Perché tu quanta ne hai Ne hai Sì Ma andate così scarsi, non più di 300 Hittato 22 shield Parco Adrian, no, niente Arrivo io, amore mio Non lo so Adriano, non lo so dov'è Ma no Oddio Mi sa che sono sparati What the fuck No, rubatemi Vai Che bisogno del medikit No, lasciamolo Dopo l'ho ucciso io Dopo G-Gio Dopo G-Gio L'ho ucciso io La minaccia granate Oddio Mi sa che c'è uno sparato Lol Che che le ha fatto perde vita Ma che buffo raga Ma che si può uccidere No, no Sto qua aveva No, no Parco Adrian Adrian curami Raga, fa un vero inedisabile Un like Un like Un like Una bravura in più per Adrian Raga Raga, diamo il like Diamo Anzi Manu ma come 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 Bene ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un like E commentate E noi ci vediamo Alla prossima Bella Bene ragazzi Qua vi lascerò Una piccola clip Che ho trovato Non so se Contro un bot O contro una persona Stranabba Ma Era veramente Scarso Cioè All'inizio L'ho lasciato Un po' Sparare Ovviamente E poi Ho detto Ciao Che questo qua Mi fa sparcare Tempo E infatti Dopo Becola Safe Comunque Sia Vabbè Dettagli Ragazzi Vi lascerò Oltretutto Dopo questa clip Vi lascerò Uno screenshot Del mio profilo E se andate A vedere La foto Che c'è Adrian Che me la fa Guardare Anche a lui Controllo Se li putzava Qualcosa Oppure Qualcosa Altro Vabbè Ma Lasciamo Perdere Dettagli 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 Dettagli